Sono molto soddisfatto. Il Sistema Italia Unito parteciperà a questo trimestre anti-inflazione per contenere i prezzi di beni a più largo consumo, non soltanto alimentari, dal 1 ottobre al 31 dicembre e credo che questo sia un successo del Sistema Italia. Noi abbiamo apprezzato la volontà delle associazioni che rappresentano e che parteciperanno al patto anti-inflazione insieme alla distribuzione, commercianti, esercenti, grande distribuzione e anche alle altre associazioni di impresa che ci hanno manifestato la loro adesione in un sforzo collettivo del Sistema Paese per contenere i prezzi nel trimestre decisivo, cioè dal 1 ottobre al 31 dicembre. Il carello tricolore sarà davvero tale, tutti insieme, uniti, in campo. Alcuni fattori che determinano l'inflazione incinano di più sui prodotti alimentari o su di un tavolo di confronto e di consultazione con tutti gli attori della filiera produttiva dall'inizio, dalla raccolta, per esempio, del campo alimentare, sino alla vendita, un tavolo sui beni di largo consumo per lavorare insieme in maniera sistemica, continuativa e strutturale per contenere i prezzi. È un paniere che conterà beni alimentari ma anche altri prodotti a largo consumo, igiene personale, igiene per la casa. Infatti vi partecipano anche le associazioni delle farmacie e delle parafarmacie, tutti insieme. Un paniere di prodotti a largo consumo sui quali tutti si impegnano a contenere i prezzi e questo darà un colpo definitivo all'inflazione a beneficio di tutto il sistema paese e anche darà fiducia ai consumatori che potranno quindi in questo modo anche, come dire, e giustamente rifornirsi di quello che necessitano a prezzi più contenuti e allargare i consumi e la base produttiva.